Una buona sera e benvenuti a questa edizione speciale di TG Magazine, un'edizione speciale per un evento eccezionale, una piena del Tevere che è stata veramente devastante per il territorio Ortano, situazioni difficili in alcuni casi, critiche per alcune famiglie che sono state evacuate in zona del sottopasso, situazioni difficili anche nelle campagne dove si sono registrate numerose perdite per gli agricoltori, sia dal punto di vista delle colture ma anche sotto il punto di vista degli animali che sono rimasti intrappolati senza poter trovare via di scampo. Una piena che sì, si aspettava, ma non di queste dimensioni. Il territorio offre delle zone di fuga per quanto riguarda l'acqua, dei bacini previsti per le sondazioni, ma invece come potete vedere non sono abbastati i tanti rimedi che sono stati apportati dalle numerose forze messe in campo. Poi al termine del nostro appuntamento in questa breve edizione vedremo delle immagini girate dal nostro operatore Stefano Albertini che per tutta la mattinata è stato in giro per il territorio insieme alla protezione civile per documentare questa piena eccezionale, questa piena inaspettata di queste dimensioni, veramente nessuno poteva prevedere che fosse così grande. Possiamo incominciare a vedere le immagini, le prime immagini, quelle che abbiamo registrato questa mattina ad Ortescalo. Ortescalo si è svegliata con il fiume Tevere che scorreva veloce verso sud portando via quello che trovava sul proprio territorio, un Tevere pieno di morte anche in alcuni casi con le prime carcasse di animali che passavano venendo da chissà dove e un Tevere che ha danneggiato notevolmente la zona di Moleniano. Ecco qui vediamo le immagini che abbiamo girato sul ponte che attraversa la ferrovia e poi sentiremo tra qualche istante le prime impressioni che abbiamo avuto dalla gente che era presente. Una cosa così non sarebbe mai vista? No, mai. Eppure il Tevere sarà arrivato parecchie volte ma così mai? Mai così, per carità, per carità. Voi che avete dei campi qui sotto? Eh sì. Pensate di trovarci poi quando è finito? Vado morti. Tutti degli animali? Eh bene. E ci vuoi trovare? Quelli, quelli, quelli li trovi. Allora abbiamo in collegamento il consigliere Sandro Martellino che da questa mattina è in giro per il territorio per monitorare tutta la situazione. Adesso che notizie possiamo dare Martellino? Le notizie sono che il livello del fiume sta calando sia a partire dalla zona della stazione di Bassano fino a diciamo alle baucche dappertutto si nota un abbassamento di circa mezzo metro. Ecco quindi diciamo che il peggio dovrebbe essere passato a questo punto? Sì, da informazioni che mi hanno dato pochi minuti fa si vede una diminuzione delle portate in arrivo anche a Corbara. Quindi per il futuro, contrariamente a delle chiacchiere che sento in giro, che stanotte risale e compagnia bella, diciamo il centro di controllo che è sicuramente il meglio informato, mi tranquillizza dicendo che assolutamente non è vero questo, a meno che non si metta a piovere a dirotto, ma non mi pare che le previsioni sono buone. Dicevo ecco la piena quando è passata, il maggior pericolo quando c'è stato? Durante quella giornata della scorsa? Il massimo di piena mi è sembrato poco dopo intorno all'ora di pranzo, perché dopodiché è cominciata una leggera diminuzione. Ecco quindi è presto magari per fare la conta dei danni, però sicuramente ce ne sono stati tanti? Indubbiamente sì, comunque non è colpa solo del chevere, ma è colpa anche dell'uomo. Sì, ma questo ovviamente va sempre poi a rigadere sulla stupidità in questo caso dell'uomo che fa delle opere forse non… Perché noi stavamo osservando, mentre avevamo notizie di diminuzioni della portata che defluiva dallo sbarramento di Alviano, che dopo sei ore l'acqua che passa Alviano ce la ritroviamo a Orte. Avevamo notizie di diminuzione di quella portata mentre vedevamo salire il Tevere ad Orte. E poi è stato verificato che dipendeva dal fatto che la centrale, che lo sbarramento di Ponte Felice non riusciva a far defluire tutta l'acqua fluente per guasti alle paratoie. Bene, allora grazie per queste informazioni al Consigliere Martellino, quindi possiamo tranquillizzare tutta la cittadinanza che il peggio è passato, a meno che non riprenda a piovere, ma le previsioni su questo fronte ci danno ampio respiro. Quindi grazie al Consigliere Martellino per questo suo intervento. Buonasera. Ecco, ora continuiamo sperando di avere o il Sindaco o l'Assessore Antonio Bobboni per domandare le notizie su quello che è stato un po' sulla bocca di tutti in queste ultime ore, vale a dire il destino della palestra, perché l'impianto nuovissimo, proprio completato una settimana fa, ha visto l'acqua salire paurosamente, ci sono state anche delle protezioni messe di fronte alle porte, dei sacchi di sabbia, della breccia per cercare di arginare l'acqua, ma ancora purtroppo non sappiamo in che condizioni è questo impianto. Ecco, io prego intanto la regia se può contattare o il Sindaco o l'Assessore Bobboni in modo da averli in linea per sapere notizie ulteriori. Di certo è che i danni sono stati notevoli, sono stati tanti, sono stati sicuramente superiori al previsto, colture distrutte completamente, campagne come potete vedere allagate, come già detto animali che sono per necessità familiari e sia per quanto riguarda del pollame, dei conigli, dei magliari, che ovviamente non ci sono più, sono rimasti, come dicevo, in apertura intrappolati nei loro recinti. È una situazione che poi per defluire ovviamente avrà bisogno di tempo e sicuramente anche di una conta per sapere quanto è stato arrecato di danno. Tempo per far defluire le acque ce ne vorrà e poi ce ne vorrà anche per, come dicevo, la conta dei danni. Una cosa così, come diceva quel signore che abbiamo sentito poco fa nell'intervista ad Orte Scalo, ad Orte non si era mai vista. C'è chi la ricorda nel 55, nel 60, una cosa simile, ma a quei tempi forse le dighe non intervenivano in modo così massiccio e magari il Tevere si straripava, però era uno straripamento più generalizzato su tutto il territorio e non soltanto nei bacini quelli preposti, dove purtroppo però sono stati insufficienti. Ecco, vorrei sapere dalla regia se abbiamo in collegamento qualcuno. So che stanno contattando, come già detto, o l'assessore Bobboni o il sindaco Primieri per saperne di più, anche perché queste persone, ricordiamolo, da ieri sera praticamente, dalle ore 21-22, che sono in piedi per il territorio, in giro per il territorio, a quest'ora ovviamente presentano segni di stanchezza e va detto che bisogna soltanto ringraziarli per il loro operato, così come tutti i volontari della protezione civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e tutti coloro che hanno contribuito a far sì che questo evento fosse quantomeno gestibile nelle sue dimensioni. Ecco che abbiamo in linea? Abbiamo in linea il sindaco Odino Primieri. Sindaco? Sì. Sì, buonasera sindaco. Poco fa con Sandro Martellino parlavamo dei danni, ancora è presto per quantificarli, però è indubbio che ce ne sono stati tanti. I danni ci sono stati e sono elevatissimi perché l'esondazione che ha colpito il nostro territorio è stata una sensazione eccezionale, qualcosa che parlando con le persone più anziane, oltre tanti anni dicono che non si ricordano mai che sul nostro territorio si era verificato un evento così grande. Per quantificare i danni è ancora presto perché finché l'acqua non rientra, non possiamo dire quali danni. I danni sono ingentissimi, i privati, nelle piccole attività produttive, nelle opere pubbliche. Io vi sono girato oggi e voglio dire, stringi il cuore veramente, vedere chi in un attimo ha perso quasi tutto. Ecco sindaco, parlava poco fa di strutture pubbliche, è la prima cosa che ci viene in mente, anche perché molti cittadini, ne sentivo poi parlare nelle zone dove osservavano il tevere, la palestra, è finita da pochi giorni e già si rischia di mandare in fumo una buona parte del lavoro. In che condizioni è la palestra se possiamo saperlo? Allo stato attuale abbiamo, questa mattina sono stati fatti dei lavori dai volontari, da tutte le persone che stavano là, è stata contornata dei sacchetti di sabbia, protetta dai sacchetti di sabbia, quindi voglio dire l'acqua all'interno non è arrivata. Adesso aspettiamo che l'acqua rientri per capire se l'entità del danno che ha provocato magari nelle fondazioni, in qualche elemento strutturale. Una portata così è un po' inaspettata, si sapeva che sarebbe arrivata una piana ma non di queste proporzioni, di queste dimensioni, ha sorpreso un po' tutti, ma da cosa è di peso questo eccessivo carico d'acqua che è avvenuto? Ma guarda, questo lo sappiamo soltanto frammentario, noi sappiamo che il fiume Paglia ha avuto forti precipitazioni e ha portato circa 1000 metri cubi d'acqua, a questi 1000 metri cubi d'acqua si è aggiunta l'apertura della dica di Corbata di oltre 1400 metri cubi, quindi è scaricato qui qualcosa come 2500 metri cubi secondo, una cosa allucinante. A questo si è rilevato il fatto che la dica di Gallese che ha 4 paratoie, 2 erano completamente ostruite dal tronchi di acqua che si sono messi di traverso e quindi facevano proprio una dica, una paratia e l'acqua non riusciva a defluire. Quindi questa è stata una complicata di cause, di cose che ha prodotto questa enorme quantità che si è scaricata qua. Ecco, dicevo il Comune intende chiedere un risarcimento magari come zona di calamità che sono riviste? Noi ci siamo già attivati, oggi abbiamo chiesto al Presidente della Provincia di Viterbo lo stato di calamità, domani mattina lo ufficializzeremo, il Presidente è venuto, ha constatato con mano quello che è la realtà del territorio, è venuto anche l'assessore della Regione Lazio, il nostro Cangemi, quindi stiamo facendo tutti i nostri passi, domani alle tre c'è una riunione alla Protezione Civile della Regione Lazio, alla Presidenza appunto del Presidente Meroi, in rappresentanza del Comune di Orte, del Comune di Tarquini e del Comune di Montalto, i tre comuni della Provincia di Viterbo che hanno avuto i maggiori danni e insistendo proprio su questo per avere lo stato di calamità sul nostro territorio. Ecco Sindaco, io so che il Sindaco è stanchissimo che non dorme praticamente da più di 24 ore e lo lascio soltanto, volevo soltanto dirgli un'ultima cosa, domani dovevamo vederci per una trasmissione proprio di questo genere, però a questo punto credo che sia opportuno farlo magari sabato nella sede naturale del TG Magazine in modo che c'è anche una visione più chiara sia dei danni sia su tutte queste altre iniziative come la richiesta dello Stato di calamità naturale in modo di poter dare informazioni più precise. Domani sarebbe un po' una ripetizione di quello che abbiamo detto oggi anche perché l'acqua deve ritirarsi. Va benissimo, sicuramente ci saremo presenti. Bene, allora grazie alla Sindaco e lo lasciamo riposare visto che è passato delle notti insonni. Quindi a questo punto chiudiamo qui questo nostro numero speciale di TG Magazine, quindi tranquillizziamo tutti, il peggio è passato, la piena è passata, ora il Tevere defluirà, man mano ci vorrà del tempo, rimarranno delle sacche d'acqua, però tutto quanto entro diversi giorni tornerà nella normalità. Se così passiamo possiamo parlare di normalità, come abbiamo sentito il Sindaco, gente che ha perso veramente tutto, c'è da stare poco allegri in queste situazioni. Adesso però ci vediamo tutte le immagini che sono state girate da Stefano Albertini che da questa mattina alle 6.30 è andato in giro proprio con il Sindaco e con il Consigliere Martellino per seguire su tutte le zone del territorio quello che accadeva. Quindi una colonistoria che è partita dalle 6.30 ed è arrivata fino praticamente alle 14 quando si è avuto il termine della piena, del momento peggiore che ha passato il nostro territorio. Noi torneremo sabato, ovviamente ci occuperemo ancora di questo argomento. la misura descrizione è stata attraversa già da una zona di alzare e metterlo sotto i rio. La mia famiglia è stata assolutamente non sapevo, ma all'ora la mia famiglia. Mentre si è avuto un'altra cosa, e poi si è avuto un'altra cosa, come vi ho mai parlato dai fattori, in ansia mi dicevo che sia stato così attraversa. La mia famiglia è stata un paura il nostro territorio, mi dicevo che c'è stato fatto ogni consarga al base a fare un'altra cosa, che si sa dobbiamo capire a fare. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. It's a tutti. ma sto a 40 anni, ha dato vaso, dice ma io non ho visto, mai vista a 5 anni, da è solo sera, a 2 anni, hai dato, che viene decrease, ha devo, che va, sta bene, Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti